Il Partito Pirata chiede l'introduzione del referendum a livello europeo, la legalizzazione della cannabis e nuovi diritti nell'era digitale. Tutela della privacy, diritti digitali e riforma del copyright. Questo è il Partito Pirata, ma anche attenzione verso il territorio e l'agricoltura. L'Unione Europea sono anche i finanziamenti dati per incentivare l'agricoltura.